E' allarme per i fondi per la ricostruzione dei comuni del catere interessati dal sisma 2009. I fondi stanno per terminare. In cassa restano 23 milioni di euro per 56 comuni, per quel che riguarda la ricostruzione privata, perché per la pubblica stanno per arrivare anche risorse del PNRR. E' il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Catere, l'USRC Raffaello Fico, a sollecitare il governo. I conti sono presto fatti, le risorse che ci sono possono garantire continuità sino a metà maggio 2023. La lettera di Fico è stata inviata anche alla struttura di missione, ma è stata consegnata pure al sottosegretario Lucia Albano. Ovviamente grande preoccupazione c'è anche da parte dei sindaci del Catere. Il coordinatore dei sindaci, il sindaco di Pizzoli Gianni Anastasio, fa presente che da metà maggio si rischia di non poter pagare le fatture che verranno presentate dalle imprese. Sono i comuni infatti che pagano direttamente i lavori della ricostruzione privata, attraverso dei fondi che vengono assegnati e poi rimpinguati dall'USRC, man mano che si va avanti e che ci sono esigenze. L'allarme dell'USRC però è molto chiaro, anche i loro fondi stanno terminando, per cui c'è bisogno dell'intervento del governo. Ancora di portare avanti la ricostruzione, in particolare quella privata.